Un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la serie dedicata A World of Tanks. Come sempre ringrazio i moderatori, i moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video, oltre a trovare un link che vi permetterà di acquistare giochi scontati fino al 70%, troverete il mio link per acquistare i prodotti della Wondershare, in particolar modo Wondershare Filmora scontato fino al 5%, oltre naturalmente a trovare il link per visitare il sito dei Piani Bio www.ipianibio.it Vai, applausi Allora ragazzoli andiamo avanti con la nostra avventura. Approfitto come sempre per salutare e ringraziare tutti coloro che si iscrivono al canale quando non sono online e naturalmente ringrazio tutti quanti voi che state facendo crescere questo canale. Mi auguro che vi stia piacendo questa serie dedicata a World of Tanks Naturalmente amici di Youtube fatemelo sapere lasciando un bel like al video, mi raccomando Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e naturalmente come sempre vi ricordo di dare anche un'occhiatina a quelli che sono i canali consigliati Beh, detto questo, iniziamo Gaspari Il mio nome è Alessandro Carissimo Gaspari Buon pomeriggio a te Naturalmente ti ridò il buon inizio settimana Anche se mi sembra che ci siamo sentiti ieri Grazie come sempre della tua grande partecipazione e della tua grande presenza Oggi andiamo avanti con la carriera qua Sperando di riuscire a fare cose buone dal monte Oh, sì, sì, sì Mettiamo già riparare Oppala Hello, my friend Oh, ecco, stanno a dire alle rocce Oh, ecco, stanno a dire alle rocce E tre. Oh, penetrazione. Oh, ma questa c'è la corazza tosta. Oh, io, io. Ahia, non sono riuscita ancora a farci la mano qua. Penetrazione? Sì, ma questa però... Eh, certo. Scusa, Gaspare. Ui, carissimo Lupone. Da quanto tempo. Il nostro amico direttamente dalla bellissima Avellino. Grande. Il mitico Lupone. 87 ufficial. Buon pomeriggio a te, caro Corregionale. E, naturalmente, buon pomeriggio anche al nostro Gaspari. Tutto bene, caro. È sempre un piacere essere in vostra compagnia. Scusate se interagisco poco, ma... ...veno poco... ...leggermente in meglia di questo giochetto. Eccoci qua. Oh, com'è il tempo lì da te, caro Lupone? Oggi qui, in provincia di Napoles. Oggi fa caldino. Stamattina era un po' nuvoloso, poi stranamente... Cioè, stranamente, si è aperto un po' il cielo. Al momento non ancora. Lo porterò prossimamente. Per il momento sto vedendo un attimino... ...sto portando avanti questa serie... ...di World of Tanks. Vi tornerà più presto... ...la serie con il mitico Turbo Star di Raph Garage. Un nome, una garanzia. Ah. Ok. Grazie. Dammi del tuo, Lupone. Non preoccuparti. La so che sei... ...una persona molto, molto educata, ma... ...va bene, soprattutto darmi del tuo, non preoccuparti. Ah, stranamente, oggi... ...ci è andata abbastanza liscia. Allora, vediamo un poco. Innanzitutto, questo che cosa ci dice? Eh, gettoni... ...gettoni, gettoni... Io non ne ho... ...no, questi sono carri pesanti... ...per il momento. Offerte speciali... ...vediamo un po'... ...670... ...ah, provoci, vediamo... ...se dobbiamo vendere qualcosina. Consumabili... ...non li vendiamo. Allora, era un magazzino... ...magazzino... 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 ...allora, no, questa è vuota... ...eh... ...no, lasciamo così... ...lasciamo così... ...let's keep everything... ...do e they are... ...comma stand... ...allora, consumabili... ...188 mila, però... ...eh... ...allora, questo che cosa fa? ...aumenta... ...ma... ...ma... ...prendiamo dei... ...bush... 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 ...vai... ...ni paghiamo anche 20 mila... ...che sì, ovviamente... ...renderanno... ...un pochettino... ...più reattivo il nostro equipaggio... ...l'equipage... ...e approfitto naturalmente... ...per salutare... ...anche... ...moreno... ...mister... ...aleasso... ...official... ...ditto... ...mister... ...aie aie... ...saluto... ...naturalmente... ...il presidentissimo... ...la zappa assorta... ...insieme a... ...macho King 82... ...caiman... ...lore... ...a... ...Dennis... ...e... ...tutti... ...tutti gli amici... ...mhm... ...naturalmente... ...amici di amiche streamer... ...rosso... ...e vediamo cosa ne viene fuori... ...ma... ...come dice il mitico Nazare Onesta... ...allora... ...dove... ...contate che là non mi devo esporre... ...perché... ...già so che... ...i carri... ...dall'altra parte faranno... ...man bassa di... ...di carri... ...però qui nessuno si muove... ...oh... ...stanno dormendo... ...sveglia... ...ah... ...azvenna... ...ienua... ...azvenna... ...ah... ...oh... ...c'è ancora un m3 qua... ...un caro baro... ...veloci... 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 ...allora qui non conviene... ...cambiamo... ...mamma mia... ...e quanto si alza il ping... ...i ping e pong... ...è... ...gostbuster! ok io ti seguo guarda, anzi ti copro il chiappettone nei casi in cui qua si affaccia qualcuno ah lo sapevo, tutto bene caspari scusami se interagisco poco ma sto caspita, sto caspita gioca, è veramente qualcosa di absurdo allora qua ci stanno 1, 2, 3, 3, 1, gg, oh caspiterina dove che sta l'artigliere, vediamo se riesco a vedere da dove arriva il colpo allora da lì più o meno no è proprio attenzione, mannaggia, vai che siete in 2, anzi in 3 sì ma questo sta lui da solo però una scia miseria guarda chi sta, lo sa sì però occhio, occhio, eccolo, 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 a posto le squadre ho poche scarzette, eh lo devo dire, allora stava là se non mi sbaglio vediamo un po', ah no questi sono i passarelli che girano sì, vabbè, ma tanto è perse eh ahia ahia questo c'è il famoso carro di cui ci ha parlato Jason, l'amico appassionato di World of Tanks ahia, vabbè questo è un carro francese, questo è un carro pesante ahiaiai ahiai ahiai one scuccatella vans dove si è andata a rifugiare ma ci vediamo l'anticarra sta però questo è legger ahia ahiai ahiai mamma mia andata non dico una mezza una sozzetta però più o meno non è andato proprio benissimo grazie allora andiamo un po' boh diciamo che in quest'ultima battaglia non è stata proprio il massimo dunque riparro automaticamente ovviamente ci abbiamo rimesso praticamente si 2000 euro ormai se mi abbia qualcosa di questo vabbè allora andiamo un po' fabbrica let's take a look mira preciso mamma mia quanto costa pratica antincendio fornisci talento lotta antincendio attaccendo pratica addestrata al 100% questo mi pare che non ce l'abbiamo allora questa l'abbiamo presa questa ce l'abbiamo ci manca solo lo prendiamo dopo dai ci facciamo un'altra missioncina nel frattempo vediamo qua da collezione vabbè quella da collezione sappiamo ok beh vediamo se riusciamo a fare di meglio quella mappa fra le altre cose ragazzi devo dirlo è veramente molto ma molto complicata da poter mandare avanti molto complicato oh oggi stranamente va molto meglio aia mamma mia quanto è alto il ping and so hi everyone thank you so much to be here watching this video thank you my friends let's go non si capisce niente si capisce oh da chi sta però effettivamente c'è un carro che lo si vede a 30 km di distanza allora come si vede però mi andrei a posizionare laggiù nella montagna c'è il nostro gasparozzo aunga 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 ci sta pure il lupone prendiamo pure il carramato tuzzo tuzzo le allora la non si vede niente no ok mamma mia come sta a a proposito saldiamo anche il sergente di ferro Gippo che naturalmente è un altro carissimo amico che non ha come dire iniziato a fare a streameggiare come dice il mitico macho king che saluto macho king 82 e speriamo che lo faccia più presto perché è una persona simpatica molto a modo sarah Vieni, vieni da più guardano. Non lo so, non lo so, non lo so. Mannaggia. Eh, vabbè. Oh, ma questo quando ce l'ho io non è funzionante. Aia. Dai, dai, dai. Forza, forza. Annaggia. Dove si è rimasta da solo? Sì. Eh, vabbè. Nemmeno stavolta ci è andata buona. Allora, devo passare un po' alla risoluzione, mi sa. Per chi soffre un pochettino. Allora. Impostazioni. Grafiche, ecco qua. Abbassiamo un po'. Allora, mettiamo massima. Ok. Riproga. Vediamo se... Se gratticchia di meno o se gratticchia di più. Come il formage. Ecco, quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Oh, meno. Il ping è sempre alto ma... Ho recuperato qualche fotogramma. Beh, un bel po' di fotogrammi direi. Ci ha perso però la mano, ci ha perso. Sì. Sì. Allora, si puoi andare di luci. Non so che. E non miWhichco. Sì. A disposizione. Dora. Non, non posso dirlo. Non è che esercizio. Sempre tu hai. Non è poi… Mi sposto per coprirti le spalle. Tu ti è pieno. Grazie a tutti. 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 Quanti ce ne stanno? Tutti quanti a distanza. Tutti. 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 No ma ci sono questi che dormono. Eh, io lo devo scrivere sveglia. Cosa direbbe totò? In effetti loro, loro ce l'hanno alla corrente. Quanti ce ne sono rimasti? Quanti ce ne sono rimasti? Eh, questi sono quasi mezzi andati. Che nessuno si muove, eh? Sì, allora, ma ci sono andato. E poi? E poi? Ui Moreno carissimo buon pomeriggio ti ho appena letto, vabbè si è appena arrivato una scuccatella di mani a Moreno, vai regia, applausi il Moreno che si ribalta questa clip è, si attenzione Moreno si ribalta aus, 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 aus il fringo è l'aus ok poi dopo rispondo vediamo se si ribalta il risultato ma dubito perché purtroppo ci sono quelli che campeggiano e quindi di conseguenza colpo di artiglieria 2 contro ecco, oh l'ha pizzicato, si è rimasto, chi è rimasto, ah è rimasto solo lui vabbè purtroppo caro ha acchiappato un team, a parte che lui si è mimetizzato bene si è proprio imbosciato come si dice in gergo, 52% di morbidezza, potresti anche provare no? oh oh scuccatella, vai, scuccatella di manos ottimo Moreno, appena letto, bene, bravo Bis ottimo ed abbondante speriamo di non fare quadris e quanto gli è costata Moreno? grazie, 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 e io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? sì, sempre alloggio vita, lavatura in piegatura e stiratura d'accordo, d'accordo aspetta Moreno, allora ti hanno fatto veramente un super trattamento allora ragazzi, proviamo un po' con questo qua, visto che è parecchio che non lo proviamo vediamo un po' cosa manca, allora abbiamo detto che 30, 47 metto sul conto di mister aie aie aie, che salutano naturalmente, che salutiamo il nostro aleasso official diffidate dalle imitazioni perché ho saputo che ci sono quelli che copiano mister aie aie attenzione aiaiai tu hai capito Moreno? ci sono quelli che copiano mister aie aie e non solo aiaiai aiaiai cosa direbbe totò di queste persone ebbè ha detto che sono funicolari senza corrente quindi ci sta eh ragazzi ci sta diciamo che sono privi in qualche modo di no, fantasia no, non si può dire diciamo di inventiva ecco e che quindi giustamente loro attingono da altre parti ma ovviamente non citano le fonti io per esempio se prendo il punto da Moreno lo dico apertamente dico andate a seguire anche Moreno a proposito amici di youtube ma anche amici di twitch mi raccomando iscrivetevi al canale del nostro Moreno allora io facciamo intanto gli faccio uno shootout a Cayman con il vostro permesso moderatori allora Cayman lo lo ecco qua naturalmente vi invito a seguire anche il presentissimo grazie a passato ah ieri ha portato Eurotrack io morino ieri sera sono andato un po' da Cayman sto finendo il giro dei canali amici quindi poi dopo inizierà come il mio consueto poi ci sarà anche il lo zapping nei vari canali proprio per per supportare gli amici ma ovviamente molto spesso mi trovo in canali che fanno pochi pochi spettatori pure per dare una mano a loro per raggiungere la media per l'affiliazione visto e considerando che so quanto sia duro raggiungere l'affiliazione allora per spirito di spirito di colleghismo allora noi praticamente io gli vado gli do una mano a fare un po' di media oh questo è il carro che vorrei il carro che vorrei e tuzzi tuzzi ali ali oh caccio Oh, ma chi ci sta dietro a me? Anzi, questa quasi quasi la facciamo a retromarcia così. Ah, io lo sapevo. Io ho già dormito. Ah, vabbè, io ieri io solitamente resto fino alle 11 poi, tranne i casi in cui, diciamo, mi sento meno, mi sento un po' più fiacco e che quindi resisto di meno, ecco. Sì, vabbè, ma fa pure lo sbruffolo. Ah, questo c'ha lo stesso mezzo che c'ho io. Boom. Ehi, questo è un altro che arriva bello Tomo Tomo. Hashtag Tomo Tomo. E tuzzo e tuzzo. Anzi, come direbbe qualcuno, oh yes, oh yes. Da, da, su, su. Questo è bravo, speriamo di non dovermi rimangiare le parole. Ah, questo se l'ha attrezzata per bene il carro, vedete? Si aggiunta anche la... Lei la... La Mimetise Sion, la M... Quindi giustamente... L'amico Fritz. Chissà quel carro se è premium. Credo di sì, però. Questo è un bel carro, comunque. Eccolo qua. C'è pure le mitragliatrici verso l'alto. Buona, bravi seci. Copertura a 360 gradi. Oh, oh, aparaté. Aparaté. Prigioca, prigioca. Prigioca, aparaté. Eeeh... Tar, tar. Tar. Ed ecco che... Nooo. Wow. Azzo sto medium, Ted, Derrick. Ah, Derrick. Chi si ricorda dell'ispettore Derrick? Fatemelo sapere nei commenti, anche amici di YouTube. Uh. E' finita. E' finita. E' finita. Siamo arrivati i secondi. Siamo arrivati i secondi in classifica. Vabbè. Sto carro, sinceramente. Un HMR proprio tantissimo. Prendiamo questo, ah. Che con questo mi sono dato un bel di soddisfazione. Ma prima di tutto però vediamo a che punto siamo con l'addestramento. Allora, talenti. Talentuosamente questo è armaiolo. Ok. Beh, 14%. Ci vuole tempo. Poi il pilota. Eh, scheda personale. Talento. Mimetizzazione. Ah. Ok. Proviamo a vedere con questo qui come va. Allora. Allora. Nel frattempo. Nel frattempo. Nel frattempo. Vi ricordo, amici di YouTube che sto portando anche lì, ma ovviamente sono le repliche di Twitch. questa serie dedicata a World of Tanks fatemi sapere naturalmente Sivve Harba e Sivve Harba mi raccomando lasciate un bel pollicione in su e approfitto naturalmente per salutare anche l'amico Neofern Bus che è un altro carissimo amico streamer che naturalmente vi invito a seguire perché è una persona molto 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 divertente non utilizza un linguaggio scurrile quindi mi raccomando tentatelo a seguire si chiama Neofern Bus ok abbiamo fatto pure un po' di promozione così nel frattempo io farei partire io farei partire un po' lo spot dei piani bio vai regia alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di granatura scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangio bene anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook ed instagram almeno lui sa che c'è qualcuno che gli fa copertura voglio copritemi perché qualcosina da qua posso anche fare ok a anche a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente. Oggi sono andato in live un po' più tardi, ragazzoli, perché mentre sta facendo un po' di prove generali mi sono scordato che devo fare un'altra corsa. E di conseguenza ho tardato un pochettino di una decina di minuti. Ai 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 ai, questo è un po' più forti. Questo qui. Ello l'ho. Ma siamo rimasti... ma... allora qua ce n'è sta... guarda là dove stanno. E a volte uno glielo deve dire che devono avanzare che cacchio. Ora si muove il cappustino là. Dottor zio che è? Dottor zio che è? Dottor zio che è? Dottor zio che è? Sì vabbè. Caspita questo è ribaltato. A mo' si spiega. C'è vabbè. Mi sa che a breve si farà la carte table. E vabbè va. Eccala Guirlo Mangalacca però dai E' la vita che patti Ai 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 Prince Prince Gile Aia Chi è che sta camperando Ah ok ma se vengono a fare Quello qui se vengono a pia Dai stanno Dall'altra parte del mondo Vabbè Ma questi indagano Fra poco O darsi pure che sopravvive Maybe he will survive I don't know But let's check Come Alla faccia del Bicarborato di sodio Vabbè se la stanno catturando Tutti quanti va bene Lui se la cava Se la cava Dove Oh Oh Aia Ma io stai per farti la cartella E non vorrei dirtela Dove sta? Ah ecco Vov Che vuoi fa Si è bloccato E vabbè Chi l'orcheggia? Chi è che l'orcheggia? 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 Tutti e tutti Ali 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 Eh Tutti e tutti Ali Eh non è stata davvero massiv Questa Allora Pregiamo questa Questa è un valentino Questa è molto lentamente Questa è molto lentamente Questa è un valentino Let'essi vedere se possiamo fare meglio o meglio O meglio O meglio O meglio O meglio Dangerous Slow is my dangerous Stickity Stickity Ready to go Ready to go Here, where is it? Now I'm going to change myself here so many at the end they always find me here That's right The view is not bad Where is it? Where are you? Where are you? Let's go Don't see Permission to engage Target unlocked We didn't even scratch them Permission to engage Target unlocked We didn't even scratch them I can't Attenzione ho un tiro proprio a volo ho un tiro proprio da volo La faccia da cece, uè cece, oh sono scomparuti, sono scomparuti. Penetrazione. Vieni, vieni, vieni da più, perdone, è sposito, razza è sposito si chiama questo, paese, guarda tu. E vabbè, è sposito, guarda là qua. Ah no, freddo le scimo. Attenzione, sposito. Sperilda. Anzi questo ha un cognome tipico partenopeo. No, vieni, 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 vieni. Oh, comequina. Here, il boss. E. Grazie a tutti Grazie a tutti Buon pomeriggio Buon inizio di settimana Visto che ieri non c'era It's a cut and magical It's a cut and magical C'è manca uno shoot out Al nostro Lupone Non so cosa ha portato il nostro Lupone Questa presentazione è offerta da Caffè Patacca e il Caffè Che Spacca In collaborazione con Zio Morino E Tuzzi Tuzzi Attorno e Serino Allora Vediamo un po' Puntiggio squadra Abbiamo fatto leggermente bene Non vorrei dirlo Fatto leggermente Leggermente Penozza Allora Premiamo a creare un volatone Così per curiosità Allora Nuovo volatone Io ne avevo già creato uno Ok Pronto Allora Battaglia Ma chi si vuole aggiungere Si aggiunge Chi c'è c'è Chi non c'è Non balla Buon pomeriggio a te Naturalmente Chiaro Cat Magical E bentornato Ado tu L'amico Cat Magical Ha anche l'opera Adonimo Che naturalmente E loro assolutamente Porta Sull'altro canale Porta Anche Eurotrack Simulator De voi Insieme Alla Al team Della Dancai Transport SRL 3.0 Attenzioni Un'altra scucca Della di Manide Per il 3.0 Come è andato Giovedì Il Il Convoglio E soprattutto Chi è che si è Ribaltato Albissart Vediamo cosa Riusciamo a fare Ok Allora In centro Chi è che va In centro Oh Giovedì la miseria Stanno facendo L'ubur delle pazze Dovremmo essere in due Ma Ok No Manco questo Misogio Ah ok Flip Mi sposto Per aiutarti Grazie mille Andiamo già ad arrivare Perché questi Questa 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 Allora ottimo ottimo mi fa sempre piacere grazie ancora come sempre di darmi l'onore il big honor to to have you here in my channel thank you so much mua 78 waislano iso nello stretto questi sono carri guarda la la stessa che del zadeo prima gg acquista voglio occhio questi purtroppo è così quando si spacca il protone è finita non si va avanti e si fa alla fine del del maglione beh gliela devo dire di non campeggiare che vuoi difendere aiuto stella bassi stai per ora ne vedo uno belarus e gli altri dove stanno a george fuori 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 a corte watch out at george the first 55 è proprio 100 100 c'è proprio c'è il mezzo senza un graffietto fratomo wow fratomo chissà se partendo per io stai hai già dai dai fai��다 la per tutz e tutti stai da 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 out questa aia kvm chi ve o fratomo aia fammi vedere se riesco a trovare a fratomo che in lingua napoletana fratomo e fratma sarebbe significa mio fratello ma non mi è piaciuto la pesta allora mettiamo questa un'altra volta e vediamo cosa ne viene fuori vai vai tanta nessuno viene vola volare o cantare o nel blu de tutsi tutsi bus con te volare o cantare o nel blu de tutsi 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 dai su facciamo qualcosa di buono scucata di mani e partiamo oh qua abbiamo anche un cacciagarri mi ricordo montagne verdi io facciamo un buono in poco italia si italia no italia pan la terra dei cachi comando si comandi tu col telecomando una vizza in compagnia una vizza te do una vizza per un totale di due vizze e l'italia è questa qua e vive maestro e tutsi 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 yes yes e tutsi allo stesso ci sono ieri ai 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 Vediamo da dove arriva. 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 Da che stiamo fatti? Eh... Poi almeno la soddisfazione che ti avevi dato. Ma che stas...azzo quello è il Giappo! Quello è il carro Giappone Silti 29. Sono stato morto dal Giappone, il Giappone. Il Giappone Silti 29. Aiaiai...però se si avvicina... Mettiamoci in vista qua. Artiglierea nelle coordinate 7, 15, 24. Tutti e tutti. Dove sta sto fattendo? Questa vero? Ah, ma quella è da là dietro. Uh, cacchio, ne sono due di là, eh. Esatto, vai là. Ah, il T29 lo devo dire, curiosità. I have to check, what about the T29? Ah, già, ah, già. Se è capitato in un blotone, è una mezza zuzza, fratella, ma non dobbiamo essere iscritto. Iscritto, aspetta. Ah, facciamo io una scuccatella di mano. È stato l'ultimo. It's a capitato magico. It's a capitato magico. Allora, scuccatella di manos. Beh, abbiamo fatto meglio con questo. Allora, riduce la icona. Ah, ma noi abbiamo anche il problema di questo carro, che è il profilo alto. Allora, vediamo un attimo questo T29, se è giapponese, mi sembrava fosse giapponese. Vediamo un po', o forse è un carro russo. Vediamo, russo. T, T, T28, T28, sì, T28, eccolo qua. Ebbè, ho capito questo cattivo di carro. Vediamo se è stato il T29, perché quello se mi sbagliere è il T29, vediamo. Allora, let's check about the T29 or T28. So, T70, no, non è questo. E allora, T28. Era questo? Sembrava, sì. Sembrerebbe questo. Beh, grazie a Cipone. Però vediamo un attimo una cosa. Ricerca. Mi so, sembra... Sì, queste in effetti sono le copie, diciamo così, sono molto similari al caro tedesco che adesso vi faccio vedere. In effetti già questo, somiglia molto a questo carro qui, se lo trovo. Qual è? Non questo. Non questo. Non questo. Diciamo che il carro è simile a questo. No, questi sono quelli che mi hanno attaccato, ok. Allora, prendiamo il Fiat. Facciamo... Non li utilizzeremo mai, poi facciamo 130 di questi qua. Allora, facciamoci una partitella con il Fiat. Vediamo un attimo una cosa. Allora, questo fa 40, 40, 45. Questo fa 30, 30 e 36. Ok, già. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare con questo. E questa oggi. Let's... Let's... Let's fight. Let's go. Fight. question de garge prima mia fatta mia fatta fare la cartella le cartabla e bien sûr naturellement je salue les amis de l'enfance voilà bonjour à tous merci pour votre inscription mon canal n'oubliez pas si vous n'êtes pas inscrits à le faire c'est tout à fait gratuit activez naturellement les notifies voilà merci je vous souhaite un bon amusement voilà et tous et tous n'excuse que tel demain merci il ne fait pas mal poi voglio dire google comme me la traduce youtube comme me traduce il titulé le titre oh quasi amovini asci we are quite fully today the service today they are quite busy quite full tous et tous allez allez forza azzurri allez 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 a proposito approfitto per salutare l'amico dj r 80 se siete appassionati di musica disco rala dance e quant'altro vi invito ad iscrivervi nel canale dell'amico dj r mi raccomando iscrivetevi il suo canale naturalmente portate i miei saluti e dite che lo ziotab vi ha consigliato il suo canale così come faccio sempre naturalmente vi ricordo di dare un'occhiata al alla pagina iniziale alle informazioni del canale dove naturalmente troverete i canali consigliati che sono quelli degli amici e delle amiche streamers all'inziale roll out Ma questi si fermano qua, guarda Ma io dico che l'aiuto io a questo Mi sposto per coprirti le spalle Sì, io sono venuto da Nervo, andrò andrò Sì, dove fanno fanno? e se tutto va bene se i miei calcoli sono esatti quando questo carro toccherà le 88 migliorari ne vedremo delle belle allora lì ho visto qualcosa muoversi ok l'è andato ah lì ce ne sono due allora voglio chiede copertura su questo ma appena si è mosso vieni vieni scappa 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 frana scappa scappisci scappisci un'altra traccia è morta . . . . . . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E naturalmente vi invito anche a passare nel canale di Bob Art DJ, un altro carissimo amico che anche lui è un DJ. E naturalmente anche lì se vi iscrivete al suo canale mi raccomando. Salutatelo da parte mia. Grazie a tutti. Oh, questo sta camminando perché ci sta questo. Oh, questo sta camminando perché ci sta questo. Oh, questo è un bello di energia qua. Oh, questo è un bello. E tutti, tutti. Oh, questo è un bello. Oh, questo è un bello. Qui c'è una star. Ecco quando ci sono tanti parcheggiati che la situazione poi non finisce mai proprio nel verso giusto. Oh, questo è un bello di energia qua. Oh, questo è un bello di energia qua. E ti lascia lì. E ti lascia lì. Alle spalle. Ehi. Ma si va a mettere sulla linea di tiro. C'è la miseria qua. Così pazzi. Cosa da pazzi, vai giù. C'è la miseria qua. Ma questo team è stato veramente... Andiamo a vedere qualcun altro se sta facendo. Eh, chi strorm. C'è la miseria qua. Lo posso, va qui, 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 va qui. Ok, bravo. Bravo. Però guarda, ma che si muove qui sta? Si muove. Ah, si è mosso. Bravo. Qui, qui. A qui, là qui, là. Lo. dai dai l'ubboss ma sa che sta a fare una cartella guarda ma che si muove l'ubboss sa ora ho capito oh ragazzi direi che tutto sommato anche questa sessione è andata abbastanza bene direi che abbiamo pareggiato più o meno fra vittorie e non vittorie vediamo un attimino i risultati allora dunque abbiamo abbiamo attenuato i colpi quindi i colpi non penetrati rimbalzati ecco poi abbiamo abbiamo fatto c'è stato un danno con assistance con copertura con la corazza in più un colpo critico danno ok perfetto abbiamo fatto anche tutto sommato una buona sessione di gara infatti siamo arrivati terzi terza classe record con fiat terza classe abbiamo fatto un nuovo record ah perché con il fiat ovviamente ne ho fatto un po' più allora ragazzi approfitto naturalmente per salutare e ringraziare tutti quanti voi che siete passati a farmi compagnia ringrazio quindi ringrazio morino di essere passato a salutarmi ringrazio ancora gaspari ringrazio cat magical 75 per essere passato a salutarmi ringrazio ancora marco sfizietto di essere passato a salutarmi non so se è lui comunque saluto lupone 87 gaspari vabbè abbiamo salutato anche marco che è un altro carissimo amico saluto anche tutti coloro che sono stati in lurk quindi saluto anche i moderatori che sono crystal che mi sembra che sia lì in lurk ringrazio morino naturalmente credo di essere di aver salutato tutti mi auguro di averlo fatto naturalmente come sempre ringrazio moderatori moderatrici amici ed amiche i sostenitori e tutti voi che naturalmente vi iscrivete ai miei canali social vi ricordo come sempre che nella descrizione del video sia su twitch che su youtube trovate il link per seguire i miei canali social poi trovate un link per acquistare i prodotti della wondershare un link di affiliazione oltre naturalmente se acquisterete filmora che è un software che vi permette di creare i video montaggio video o editing video pagando con paypal risparmierete il 5% oltre naturalmente vi ricordo di visitare il sito www.ipianibio.it e quindi siamo siamo giunti al termine di questo video naturalmente amici di youtube se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un bel like al video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate tutte le notifiche detto questo io vi ringrazio grazie mille a tutti grazie so 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 e 5 4 3 2 1 stato buono agliù grazie a tutti e buona continuazione vai applausi regia alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangio bene anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook ed instagram www.ipianibio.it www.ipianibio.it